La gestione dei rifiuti noi abbiamo i due temi, la gestione delle coballe e il ciclo ordinario. Sulle coballe i comuni più direttamente interessati, dove ci sono i maggiori addensamenti, che sono Villa Literno e Giuliano, sono in sintonia con l'amministrazione regionale e hanno prestato già una prima importante collaborazione e sono convinto che vi sarà collaborazione anche per il futuro. Ma la vicenda dei rifiuti, come lei giustamente ricorda, non è soltanto il tema delle coballe, è la gestione del ciclo dei rifiuti. Le coballe sono i rifiuti che abbiamo prodotto in Campania tra il 2000 e il 2009 e che abbiamo abbancato in un determinato luogo. Poi ci sono anche dei siti minori, per piacere ricordare che anche in provincia di Avellino noi interveremo a rimuovere le coballe a Piano d'Ardine, dove c'è ovviamente un insediamento molto limitato. Ma il tema dei rifiuti è il tema anche di quello che noi produciamo giornalmente. E in Campania questa produzione si aggira intorno ai 2 milioni e 700 mila tonnellate all'anno. Ora, dopo tanti anni abbiamo approvato una legge regionale che è pubblicata proprio nei giorni scorsi sul bollettino della Regione, è la numero 14 del 2016, che attribuisce grandi responsabilità ai comuni. Noi dobbiamo lasciarci alle spalle la gestione dell'emergenza dei rifiuti con i commissari, i subcommissari, diciamo con questi organi straordinari. Noi dobbiamo diventare una regione normale, dobbiamo diventare una regione ordinaria, dobbiamo fare cose straordinarie, ma dobbiamo rientrare nella gestione ordinaria per quelli che sono i servizi primari. E qui la legge dà una grande responsabilità alle amministrazioni locali. Grazie. 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 Grazie.